prova tecniche di trasmissione allora, l'avete presente quando ho detto che il primer potion a me non faceva per niente impazzire perché mi dà un cattivo effetto? benissimo a fine giornata, che poi tanto fine non è perché non sono neanche le 8 di sera mi sono truccata stamattina a metà pomeriggio e neanche a metà pomeriggio verso le 2 in ascensore guardandomi allo specchio ho notato che c'era l'ammanco quindi, il buco notate il buco? ok sono tornata a casa da pochissimo ovviamente il trucco non c'è più no, no, un po' di trucco è rimasto qualche cosa ma è dalle 2 del pomeriggio o comunque da quando io mi sono accorta che c'era il buco che ho questo buco qui vedete che basta che a me scenda una semplicissima lacrima ma si vede? beh, si, si, dovrebbe vedere basta che a me scende una semplicissima lacrima mi si fa il buco ecco perché io ho detto che il primer potion non mi fa proprio impazzire va bene ci tenevo a farvelo vedere una cosa interessantissima ciao e che le sarei con voi era proprio una cosa veloce veloce ho fatto un video di un minuto non ci posso credere grazie a tutti grazie a tutti